Presidente Alex Martino, dove ripartiamo? Stasera siamo nel tuo locale, abbiamo visto bomber Pasolini e ritorno di Mancini, insomma le emozioni qui non mancano di certo. Sì, ripartiamo da una pagina completamente nuova dopo l'annata dell'anno scorso, che non mi vergogno di dire fallimentare, però dai fallimenti e dagli errori si impara. Siamo ripartiti appunto ripartendo dagli errori con un allenatore che conosciamo, uno di famiglia e soprattutto che è importante in queste categorie anche un tifoso del San Termete e in più sul mercato dall'attaccante più forte che c'era in promozione, siamo ben felici che sia uno di noi. Quest'anno come non mai, tu l'avevi detto, lo scorso anno sono mancati i gol, si è andati subito a cercare un pezzo forte del calcio romagnolo e di questo campionato di promozione. Tu lo dicevi proprio adesso, ci aspettiamo molto di più in questa stagione, cosa ti aspetti tu personalmente? L'anno scorso avevi parlato di obiettivo play-off, quest'anno? Quest'anno io mi aspetto molto di più sicuramente, allora io faccio una premessa, il fallimento che poi l'annata storta, più che fallimento perché fallimento è una parola pesante da usare sempre, rispetto all'anno scorso si può usare però sempre no, mi aspetto nessun problema a livello umano, quello che deve essere la base del calcio che è la massima presenza agli allenamenti e al massimo impegno, poi non è che è automatico che si vinca sempre però mi aspetto che si faccia al massimo per farlo. Ti voglio far sorridere questa sera perché è sempre difficile farlo perché tu ogni stagione hai sempre lo stesso volto nonostante stasera c'era qui a pochi passi Pasolini. Senti parliamo anche dei progressi che ha fatto la tua squadra, la tua società insieme al Presidentissimo Morari perché comunque siete cresciuti a livello di settore giovanile, anche quest'estate state facendo per l'annissima volta un summer camp, insomma numeri importanti per una realtà come quella del Sant'Ermete, non più solo prima squadra ma soprattutto anche settore giovanile. Sì è semplice, noi non abbiamo, da quando ci siamo noi, non abbiamo potuto fare tutto in una volta e un po' alla volta abbiamo messo mattone su mattone, senza settore giovanile prima o poi si è destinato a sparire e siamo partiti dal summer camp che quest'anno non abbiamo neanche avuto bisogno di pubblicizzare perché nel giro di due settimane c'erano 150 iscritti, un settore giovanile che comincia ad avere squadre dai più piccoli alla squadra dei 2008 che gioca a 11 e che quest'anno ha fatto un figurone al torneo Protti e in più i tornei che siamo ripartiti a maggio col torneo Protti che non era scontato e in poche società hanno fatto in Italia, secondo me tornei di questo livello e adesso ripartiamo a tutto tondo, sempre che si possa ma me lo auguro vivamente. Senti mortaiamo questa intervista con il finale, regalaci un sorriso in diretta così sono felici tutti, Alex in bocca al lupo, grazie!